Sono Andrea Valtorta, sono il direttore vendite della divisione etichette di Arca Etichette. Arca Etichette è un'azienda che nasce nel 1948, da allora si occupa di etichette autoadesive e sistemi per etichettare, ovvero sì abbiamo due divisioni che si occupano di stampare e fornire etichette autoadesive e la seconda di costruire la tecnologia per poterle applicare sui prodotti. Siamo qui a McFruit perché la nostra ricerca è improntata alla sostenibilità, siamo un'azienda B Corp, società Benefit quindi abbiamo un approccio molto improntato alla sostenibilità, quindi a produrre prodotti che siano ecologicamente compatibili nel rispetto del mondo. Qui a McFruit stiamo presentando una tecnologia di etichettatura linerless, ovvero sia con il maggior possibile risparmio di materiali, zero scarti di produzione e la tecnologia linerless si presta all'etichettatura di vaschette alimentari in cartoncino creando un pack completamente sostenibile, quindi vaschette in cartoncino ma soprattutto fascettatura in cartoncino FSC, quindi siamo al massimo livello della sostenibilità. In questo modo cerchiamo di dare ai nostri clienti la soluzione ideale per l'etichettatura delle vaschette di frutta.